Capitolo 2 Il cigno nero di Evgenizia Cinque anni fa, Evgenizia Nikolaevna Krasnova era una romanziera sconosciuta, con un background insolito e nessuna pubblicazione alle spalle. Era una neuroscienziata interessata alla filosofia, i suoi primi tre mariti erano filosofi, e da caparbia franco-russa si mise in testa di esprimere le sue ricerche e le sue idee in forma letteraria. Trasformava le sue teorie in storie, arricchendole di commenti autobiografici. Evitava le forzature giornalistiche tipiche di questo genere di narrativa. In una limpida mattinata di aprile, John Smith uscì di casa, eccetera. Riportava i dialoghi nella lingua originale dei personaggi, fornendo le traduzioni come se fossero sottotitoli di un film, ed evitava di tradurre in cattivo inglese conversazioni condotte in cattivo italiano. Il suo terzo marito era un filosofo italiano. Nessun editore avrebbe perso tempo con lei, se non fosse che in quel periodo c'era un certo interesse per i rari scienziati che riuscivano a esprimersi con frasi quasi comprensibili. Alcuni editori accettarono di parlarle, sperando che si dedicasse a scrivere libri di divulgazione scientifica sulla coscienza. Evgenizia fu presa abbastanza in considerazione da ricevere lettere di rifiuto e di tanto in tanto qualche commento offensivo, invece dell'ancor più offensivo e umiliante silenzio. Gli editori erano confusi sul suo manoscritto. Evgenizia non era in grado di rispondere neppure alla loro prima domanda. È un saggio o un libro di narrativa? Ne sapeva indicare per chi è scritto questo libro. Le dicevano deve capire a quale pubblico si rivolge, oppure i dilettanti scrivono per se stessi, i professionisti per gli altri. Le dicevano anche di conformarsi a un genere specifico, perché ai librai non piace sentirsi confusi, vogliono sapere in quale scaffale mettere il libro. Un redattore si spinse a fare una previsione. Questo libro, mia cara, venderà dieci copie, comprese quelle acquistate dai suoi ex mariti e dai suoi familiari. Cinque anni prima, Evgenizia aveva partecipato a un concorso di scrittura e se ne era uscita nauseata. Sembrava che scrivere bene volesse dire obbedire a regole arbitrarie, trasformate in Vangelo e rafforzate dalla cosiddetta esperienza. Gli scrittori che incontrava si sforzavano di imparare da opere considerate di successo. Cercavano di imitare racconti apparsi nel New Yorker, non capendo che ciò che è nuovo, per definizione, non può essere modellato su vecchi numeri del New Yorker. La stessa idea di racconto pareva un concetto imitativo a Evgenizia. Il docente del corso, gentile ma deciso, le disse che il suo era un caso disperato. Evgenizia finì per mettere su internet il testo integrale del suo primo libro, Una storia di ricorsività. Lì trovò un piccolo gruppo di lettori, tra cui il sagace proprietario di una piccola casa editrice sconosciuta, che portava occhiali con montatura rosa e parlava un russo scolastico, ma era convinto di essere fluente. Si offrì di pubblicare il libro e accettò la richiesta di Evgenizia di non apportare modifiche al testo. Le offrì una percentuale molto bassa come deltì d'autore, in cambio della sua rigidità editoriale. Aveva così poco da perdere. L'autrice accettò perché non aveva altra scelta. Evgenizia ci mise cinque anni a passare dalla categoria dell'egocentrica ingiustificata, cocciuta e difficile, a quella della perseverante, risoluta, scrupolosa e orgogliosamente indipendente. Lentamente il suo libro si affermò e divenne uno dei più grandi e strani successi della storia della letteratura, vendendo milioni di copie e guadagnandosi il cosiddetto applauso della critica. La piccola casa editrice è diventata una grande azienda con una detta alla reception gentile che accoglie i visitatori quando entrano nella sede principale. Il libro è stato tradotto in 40 lingue, anche il francese, e ovunque si vede la foto dell'autrice. Dicono che sia la fondatrice della scuola della concordanza. La nuova teoria degli editori è che i camionisti che leggono libri non leggono libri scritti per i camionisti e che i lettori disprezzano gli scrittori che li assecondano. Oggi sappiamo che un articolo scientifico può mascherare sciocchezze e banalità dietro equazioni e termini tecnici, mentre una prosa che espone le idee in forma grezza consente al pubblico di giudicarle. Oggi Evgenizia ha smesso di sposare i filosofi, discutono troppo, ed evita la stampa. Nelle università gli studenti di lettere discutono i numerosi indizi che indicano l'inevitabilità del suo stile. La distinzione tra narrativa e saggistica è considerata troppo arcaica per affrontare le sfide della società moderna. Era evidentemente necessario rimediare alla frattura tra arte e scienza. A posteriori il talento di Evgenizia è diventato ovvio. Molti editori che ha incontrato in seguito l'hanno rimproverata per non essersi rivolta a loro. Sono convinti che avrebbero immediatamente compreso il merito del suo lavoro. Fra qualche anno uno studioso di letteratura scriverà il saggio da Kundera a Krasnova, mostrando come le origini dell'opera di Evgenizia si possano rintracciare in Kundera, un precursore che univa saggio e metacommento. Evgenizia non l'ha mai letto Kundera, ma ha visto la versione cinematografica di un suo libro. Nel film, però, non c'erano commenti. Uno studioso autorevole mostrerà che in ogni pagina del suo libro sia percepibile l'influenza di Gregory Buttonson, che in tutti i suoi scritti inseriva elementi autobiografici. Evgenizia non ha mai sentito parlare di Buttonson. Il libro di Evgenizia è un cigno nero. Il libro di Evgenizia